Adolfo Urzio, da decenni uno dei più profondi animatori della nostra cultura, delle nostre riflessioni. Le parole che abbiamo sentito poco fa sono le parole, sono i valori, quindi sono le azioni su cui si può fondare davvero un grande inizio. Sono molto diverse quelle parole che Guidi ci ha detto, che poi la sua vita e la sua battaglia, che lui ha vinto e che l'Italia può vincere, sono molto diverse da quelle che abbiamo ascoltato ieri nella inondazione televisiva, che discutevano di restare come al Governo o di restare come in Parlamento. Di un partito che si divideva tra chi ha aggrappato ai propri posti di Governo, c'è chi ha dimostrato che quei posti valgono nulla se dietro non c'è una grande forza politica, e chi rifiuta disperatamente e anche giustamente di decadere dal Parlamento. Questa classe politica, di cui noi facciamo parte, che guarda soltanto al suo ombelico, è sempre più lontana da un Paese reale, che è fatto di due cifre, emblematiche uscite proprio ieri. Quello di un Paese che ha 5 milioni di poveri. Ieri sera, tornando a casa, ho visto un giovane, non un anziano, un giovane italiano che dormiva riscaldato dall'aria che usciva dal sottosuolo di un albergo. E quanti di voi hanno visto, ora, venendo in questa sala, un anziano italiano mendicare per strada, insieme a un immigrato? Un Paese che ha 5 milioni di poveri e soprattutto ha il 40% dei propri giovani disoccupati. E' nel contempo un Paese che ha i dirigenti pubblici e privati meglio pagati di tutta l'Ocse. Un Paese in cui il dirigente pubblico e privato ha un reddito tre volte superiore al dirigente della Germania, della Francia, della Gran Bretagna. Un Paese con un divario abissale che va ricomposto. E per ricomporlo, Giorgia, bisogna guardare a questo Paese con gli occhi dei giovani. Non di noi che abbiamo i capelli bianchi, che siamo abbarbicati a quello che abbiamo, ma dei nostri giovani che forse una pensione non l'avranno mai. Tu giustamente lotti contro le pensioni d'oro, ma anche le baby pensione. Chi è andato a pensione a 38 anni e da allora viene mantenuto sulle spalle e con le spese di chi lavora oggi e di chi non può lavorare. Un Paese che non consente ai propri giovani di fare i figli. Se non affrontiamo questo nodo e diamo una speranza ai più giovani, con un tasso di natalità come quello italiano, che è inferiore a quello della Cina e del Giappone. Anche in Cina si sono accorti che un figlio unico non produce più ricchezza. E per farlo abbiamo bisogno di scardinare e di rivoluzionare il sistema sociale di questo Paese, che è sempre più duale e che ha un divario immenso. Per farlo non c'è bisogno di una destra che guardi al passato. Ma di una destra che guardi al futuro. Non c'è bisogno di risvegliare con nostalgia quel che eravamo, ma di consentire a voi di essere quel che dobbiamo essere. C'è bisogno di una destra moderna, rivoluzionaria, riformatrice e di un cedro estra che sia capace di costruire un'alternativa a questo Paese e di farlo sognare. Sognare significa dargli un progetto. E per dargli un progetto significa dargli una forza, che aggreghi, che scuoti le montagne. E lo si può fare se rappresenta innanzitutto i non garantiti, che in questo Paese sono in più. Sono i giovani a cui abbiamo tolto come responsabilità di classi dirigente il loro futuro. Sono gli anziani che sono tristi perché vedono i loro nipoti senza un lavoro. Questa è la prospettiva di una destra riformista e su questo è il dovere che noi dobbiamo fare, chiedendo agli altri di unirsi a voi. Perché tu, Giorgia, e questi giovani possono fare quello che noi non siamo riusciti a fare sin in fondo. Una rivoluzione incompiuta che va completata oggi più che mai. Grazie Adolfo.